Quote IMU e IRPEF invariate, previsto un milione e mezzo di euro in più rispetto allo scorso anno nel capitolo Entrate Tributarie. Due milioni di spese correnti in più rispetto al 2022. Sono i primi dati relativi al bilancio di previsione del Comune di Bassano. A pesare, e molto, è la spesa legata agli aumenti di costi di energie e materie prime e un ampio margine viene dato alle spese per il sociale, 9 milioni di euro in bilancio. È stata una delle priorità quella di garantire comunque il soddisfacimento dei bisogni ai nostri cittadini anche perché in un futuro non molto remoto ci sarà molto bisogno di tutto ciò che riguarda il sociale e quindi sia dall'atto assistenza ma anche dall'atto di politiche giovanili e di tutti quei servizi che il nostro Comune ha da sempre garantito, qualsiasi amministrazione ci sia stata. Per quanto concerne i lavori pubblici, l'assessore Zonta spiega come due opere attese in città verranno slittate nel prossimo bilancio 2023. L'ascensore che sale al viale dei martiri e la sistemazione del ponte della Vittoria. Per il primo diciamo che la soluzione studiata poi resa definitiva e autorizzata dalla sovrintendenza ha cambiato sostanzialmente il sistema di trasporto e questo ha portato la cifra da 600 mila euro a un milione di euro. Per quanto riguarda invece il ponte della Vittoria, idem lì abbiamo trovato una soluzione con la sovrintendenza. L'aumento delle materie prime e anche in questo caso della mano d'opera costano su quel 25% da un milione a un milione e due e cinquanta che abbiamo dovuto rifinanziare.